Nella preghiera del Padre Nostro, insegnata direttamente da Gesù ai Suoi discepoli, quindi a tutti noi, ad un certo punto chiediamo Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Nel Vangelo di oggi, 16 novembre, a Gesù viene posta proprio questa domanda Quando verrà il regno di Dio? Ascoltiamo bene il Vangelo per poi dire qualche parola di commento Ma prima, come facciamo sempre, segniamoci con il segno della croce per chiedere al Signore, l'Ume, allo Spirito Santo di aiutarci a comprendere Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo i farisei domandarono a Gesù, quando verrà il regno di Dio? Egli rispose loro Il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione e nessuno dirà Eccolo qui oppure eccolo là perché ecco il regno di Dio è in mezzo a voi Disse poi ai discepoli Verranno giorni in cui desidererete vedere anche uno solo dei giorni del Figlio dell'Uomo Ma non lo vedrete Vi diranno eccolo là oppure eccolo qui Non andateci, non seguiteli perché Come la folgore guizzando brilla da un capo all'altro del cielo Così sarà il Figlio dell'Uomo nel suo giorno Ma prima è necessario che egli soffra molto e venga rifiutato da questa generazione Parola del Signore Riguardo alla venuta del regno di Dio Sicuramente qui non stiamo parlando dell'ultima venuta del giudizio universale Perché sappiamo, ce lo dice Gesù nel Vangelo di Matteo come sarà Egli tornerà nella gloria con gli angeli Per separare le pecore dai capri, no? I buoni dai cattivi Questo regno di Dio allora è già in mezzo a noi Perché il Signore Gesù è in mezzo a noi Ed è dentro il cuore dei credenti Ma la domanda che si impone è una Gesù Via verità e vita Vive davvero nel cuore degli uomini Vive davvero nel cuore dei credenti Gesù, via verità e vita Dirige davvero il cuore, la vita, i sentimenti, le azioni, le parole Dei Suoi discepoli Quanto i Suoi discepoli amano davvero il Cristo E si lasciano muovere dalla Sua parola, dal Suo Vangelo Quanto il Vangelo oggi riesce ad orientare veramente la vita dei fedeli A volte mi sembra solo di essere davanti a tante sceneggiate Scusatemi la parola A chi fa più bello questa liturgia A chi fa più bello un video su TikTok Che poi tutto hanno questi video tranne che parole di Vangelo Si scismiotta la verità Si fa tutto tranne che mettere al centro Gesù E quindi non si invita più i fedeli ad una catechesi Ad un momento di preghiera Ma si diventa pagliacci del sacro Scusate le espressioni un po' forti Ma certe cose che si vedono in giro Non mi parlano del Signore A me A voi sì Però permettetemi che sia anche libero di esprimere il mio pensiero E allora portiamo più Cristo al centro delle nostre vite Portiamo più la parola di Dio Nei nostri cuori e nella nostra vita È la parola di Dio Che deve orientare le nostre vite È a Dio che dobbiamo portare Non a noi stessi A Lui la gloria, l'onore, la potenza Nei secoli dei secoli Buon cammino a tutti Venga il tuo regno, Signore In noi e in mezzo a noi Amen